Una cosa è che un'azienda del territorio stia vivendo un momento di difficoltà, un'altra ben diversa e ribadire che per questo motivo il Salame Sant'Angelo IGP sia in crisi. Questo hanno confermato i produttori che si riconoscono nel consorzio Tutela Salame Sant'Angelo. Un'osservazione necessaria per confermare come la realtà produttiva del Salame Sant'Angelo IGP sia la punta di orgoglio dei nebrodi. Senza contare la produzione di questa azienda, è stata evidenziata in una nota, ad oggi si producono circa 100.000 kg l'anno di Salame Sant'Angelo IGP ed oltre 500.000 kg di altri salumi, preparati per la diversificazione strategica delle aziende, ma sempre nel territorio sant'angiolese. Il prodotto in questione è il salume più antico della Sicilia, che ha origini ultrasecolari. Le ditte nel tempo hanno dovuto sopportare alti e bassi, ma il salame ancora oggi è l'unico insaccato a marchio garantito della Sicilia. Fiora all'occhiello di indiscusso dei nebrodi, qualificato sia sotto il profilo occupazionale che di internazionalizzazione. Il Salame Sant'Angelo IGP oggi fa da traino al comparto e riesce a dare un forte slancio anche alle altre realtà dei nebrodi, oltre quelle regionali. Che ci sia bisogno di sostegno in termini di promozione e fisiologico, hanno concluso i produttori del consorzio, ma appare ingeneroso e non veritiero, sia per i produttori, che hanno investito milioni di euro, che per gli addetti, i quali quotidianamente contribuiscono a consolidare questo patrimonio, lanciare l'allarme dell'estinzione del Salame di Sant'Angelo come marchio dell'Unione Europea di indicazione geografica protetta, garanzia di qualità di un insaccato di nicchia, unico e non riproducibile in nessun'altra parte del mondo.